Ragazzi, ma si guadagna davvero con Arik's New Age? 3, 2, 1, SIGLA! Sicuramente guardando i miei contenuti o anche quelli dei miei colleghi sugli altri social media, ti sarà venuto da chiederti, ma con questa attività in generale e grazie ad Arik's New Age si guadagna davvero? Questa è una domanda spigolosa alla quale voglio risponderti in questo contenuto. Ciao, sono Anna Soave, sono una networker da oltre 7 anni. Ho iniziato questa attività che era il mio terzo lavoro e l'ho fatto per avere un'entrata extra che mi serviva nel più breve tempo possibile. Guardando i vari gruppi di supporto business mi sono resa conto che il network marketing poteva essermi d'aiuto, ma man mano che entravo in questo mondo e acquisivo nuove competenze, mi sono resa conto che questa può essere molto molto di più di una seconda entrata, può stravolgerti la vita ed è quello che è successo. Dopo sei mesi, grazie al mio impegno e la mia costanza e all'amore per questa attività, sono diventata una networker full time. Tre anni e mezzo fa ho cambiato azienda e ho scelto di abbracciare il progetto di Arik's New Age, un'azienda unica, innovativa e come si definiscono i loro founder disruptive, cioè che rompe ogni regola. Arik's New Age è un multibrand americano che si occupa di benessere di bellezza grazie a tantissimi prodotti che aiutano a migliorare la qualità della vita delle persone che si approcciano con lei, quindi sia clienti sia distributori a 360 gradi. Non esiste persona che non può trarre beneficio dai prodotti dei nostri brand. Io per prima ho testato e abbracciato il programma di gestione del peso che si chiama Slenderize e ti invito a guardare questo contenuto dove ti racconto come funziona e la storia della mia trasformazione. Questo è fondamentale perché se da oltre sette anni scelgo e rinnovo la mia scelta di sviluppare un network di prodotti è perché io per prima voglio essere portavoce e ispirare tantissime persone, donne soprattutto della mia età, quindi sulla quarantina, ad avere una trasformazione, un miglioramento e a non accontentarsi più di essere solamente mamme ma anche donne imprenditorialmente soddisfatte. Già dalla mia esperienza puoi capire che lavorare nel network marketing e in particolare con Rx New Age è redditizio, assolutamente sì. Attenzione non sono soldi facili, questo è un lavoro, tutti i giorni mi ci dedico con passione e con costanza e quello che spesso vedi sui social media quindi i post, le storie, i reel, gli shot, i sondaggi che metto ogni giorno, ogni settimana nella community sono solamente la punta dell'iceberg di un lavoro meticoloso di studio, di formazione fatto sui social media ed è una formazione che noi mettiamo a disposizione per tutte le persone che entrano nel nostro meraviglioso movimento Pink Bomb Business gratuitamente perché siamo convinti che la condivisione è lo strumento più potente che aiuta tutte le persone anche chi non ha competenze di poter sviluppare un business solido e sano. Io ero la prima che oltre sette anni fa non avevo neanche un social media aperto. Entravo nel facebook di mio marito per fare due cose interessanti, le vite a Candy Crush e fare del sano gossip, eppure guardando nel suo profilo ho visto dei post di donne che stavano avendo un riscatto della vita ed erano felici grazie a questa attività online. Rx New Age ha il piano marketing migliore al mondo e non lo dico io, basta andare su google e cercare piano marketing migliore al mondo di network marketing ti esce Rx New Age. Le fonti di guadagno sono 8, 9 per l'Italia perché abbiamo anche l'adeguamento delle nostre commissioni settimanali al costo della vita. Ti lascio qui il contenuto dove spiego bene quali sono le fonti di guadagno e come si generano. Dal momento in cui entri in attività hai il 30% di retail sui venduti che è già dal giorno zero una percentuale altissima e in più sui nuovi clienti, sui nuovi incaricati abbiamo il team lead bonus cioè una percentuale sui punti volume dei prodotti che l'azienda ci dà in più perché abbiamo portato delle nuove persone a conoscere i prodotti e l'azienda. A salire poi si sbloccano tutti gli altri fonti di guadagno fino ad arrivare a un pagliato totale del 51% che è veramente alto e se te lo dice una persona ma come ci sono io tantissime altre testimonianze di donne e di uomini che hanno stravolto la loro vita grazie a questa attività che è assolutamente legale perché le nostre commissioni all'inizio vengono tastate alla fonte per l'Italia il 17,94% quindi l'azienda gira già le tasse allo stato italiano e poi quando si aprirà partita iva abbiamo il 22% da girare allo stato che però ci viene anticipato settimanalmente dall'azienda quindi abbiamo un regime fiscale veramente agevolato quindi ti viene dato tutto nel secondo contenuto che è come funziona lavorare nel dettaglio con adx new age ti ho spiegato quali sono gli strumenti che ci dà l'azienda a disposizione e quali invece il pink bond business hai tra le mani il piano marketing migliore al mondo hai tra le mani delle persone che hanno più esperienza di te e che mettono a disposizione le loro competenze per aiutarti da subito ad avere risultati cosa manca manchi solamente tu la tua voglia di riscatto e di metterti in gioco con questi tre video abbiamo toccato alcuni aspetti importanti e spigolosi dell'azienda arix new age andando a sfatare tantissime leggende metropolitane e dicerie che vengono un po' ventilate nei corridoi io ci metto la faccia da oltre sette anni e lavoro con trasparenza eticità e professionalità ben inteso è che la scelta non ricade solamente nell'azienda che avete già capito che è il top è la top leader in questo settore ma anche sulla persona quindi tutto quello che ti ho raccontato in questi tre contenuti lo avrai solo se entri nel nostro pink bond business commenta qui sotto con la parola webinar per avere in esclusiva il video dove ti racconto nel dettaglio la mia storia e la mia attività che può diventare anche la tua ricordo che per essere aggiornato su ogni nuovo contenuto riguardo la mia attività di network marketing e il mio personal brand Anna Soave è necessario iscriversi al canale e attivare il campanello e che attivo il mio sito web www.annasoave.net dove potrai trovare la mia storia personale e di business e tantissimi contenuti inediti ed esclusivi riguardo al network marketing o Grazie a tutti.